Ricordiamo questo Memorial intitolato Marco Regnetti, siamo alla seconda edizione, dentro naturalmente a questa Rossini Raffaello che collega le due città Peso e Urbino. Siamo contenti di ritrovarci qua dopo la prima edizione che è andata benissimo, dove abbiamo avuto 160 iscritti di 10 regioni d'Italia. Quest'anno abbiamo avuto l'onore, abbiamo l'onore che la Regione Marche ci ha affidato come gara da Rossini Raffaello valevole per il titolo regionale, quindi verrà consegnata al primo corridore delle Marche la maglia di campione regionale. Quindi avere un riconoscimento così dalla Regione il secondo anno, quindi dopo la prima edizione, sicuramente abbiamo mandato un buon messaggio. Devo dire che questa gara ormai ha assunto un livello regionale, è una bellissima gara perché collega la città di Peso con la città di Urbino. Averla chiamata Rossini Raffaello è stata sicuramente un'idea geniale perché Rossini Raffaello sono i due rappresentanti più conosciuti del mondo, del nostro territorio. Noi dobbiamo essere consapevoli e orgogliosi di avere personaggi di questo tipo che vanno in qualche modo legati ancora di più al nostro territorio perché sono una grande opportunità di valorizzazione della città di Peso, di Urbino, ma soprattutto di tutto il territorio che abbiamo bellissimo qui nella provincia di Peso Urbino. Mi pare una bella iniziativa, noi abbiamo dato il patrocinio, anche un piccolo contributo l'anno scorso. Pensiamo che il percorso Peso Urbino, Rossini e Raffaello è anche un percorso di natura non solo sportiva, ciclistica per gli appassionati, ma anche culturale, storica, che coinvolge anche Vallefoglia essendo proprio al centro a 18 chilometri esatti da Pesero e da Urbino. E poi il percorso, anche quello affascinante che abbiamo fatto durante il Giro d'Italia, che è il crinale dove passavano gli eserciti del Duco e Federico, ha un fascino davvero straordinario. E sappiamo già che diverse squadre che ci sono state lo scorso anno torneranno e quello che possiamo dire è che abbiamo fatto bene, quest'anno vogliamo fare ancora meglio. Cerchiamo di dare il massimo, abbiamo avuto il sostegno di tutti gli sponsor dell'anno scorso e anche alcuni sponsor nuovi, le amministrazioni anche quest'anno ci hanno sostenuto e poco prima di questa conferenza stampa abbiamo avuto il tavolo tecnico, quindi sappiamo che tutto è a posto, cosa dire, vi aspettiamo domenica in piazza a 2 luglio per la partenza di questa gara.